così sognava Iosef K era una bella giornata e K uscì per andare a passeggio non aveva fatto due passi che si trovò al cimitero era un luogo pieno di viali tracciati a capriccio con una quantità di giri inutili ma lui scivolava su uno di questi viali come su un rapido torrente con imperterrita elasticità ancora da lontano il suo sguardo si posò su un tumulo di terra scavata di recente e decise di fermarsi là quel tumulo aveva per lui uno strano fascino tanto temeva di non raggiungerlo abbastanza presto a volte però gli pareva di perderlo di vista c'erano delle bandiere che glielo nascondevano bandiere che sventolavano battendo tra loro a tutto spiano non si scorgeva chi le portasse ma laggiù pareva regnare molta allegria i suoi occhi erano ancora fissi in distanza quando tutto a un tratto vide il medecimo tumulo lì sul viale già quasi alle sue spalle saltò veloce nell'erba e poiché il viale abbandonato dal suo piede continuava a scorrere vacillò e cadde in ginocchio proprio davanti al tumulo dietro la fossa due uomini reggevano in aria una lapide non appena comparso K la conficcarono nel terreno dove restò come murata immediatamente da un cespuglio uscì un terzo uomo che subito K individuò come un artista portava soltanto un paio di pantaloni e una camicia male allacciata in testa aveva un tocco di velluto e in mano una comune matita con la quale mentre si avvicinava andava tracciando figure nell'aria con quella matita cominciò a disegnare in cima al marmo la lastra era molto alta tanto che non aveva bisogno di curvarsi ma piuttosto di sporgersi perché il tumulo lo separava dalla lapide e lui non voleva calpestarlo perciò se ne stava in punta di piedi appoggiandosi con la mano sinistra dal piano della lastra grazie a un abilissimo artificio con quella matita comune riusciva a scrivere a lettere d'oro scrisse qui giace ogni lettera risultava bella e perfetta profondamente scolpita in oro massiccio disegnate quelle due parole si voltò e guardò K questi curiosissimo di vedere come la scritta proseguiva non gli fece neppure attenzione e continuò a fissare la lapide l'uomo si accinse di nuovo a scrivere ma non vi riuscì qualcosa glielo impediva lasciò ricadere la matita e si volse ancora a guardare K stavolta anche K guardò lui e comprese che si trovava in grande imbarazzo non poteva spiegarne il motivo tutta la sua vivacità di poco prima era svanita anche K ora si sentiva imbarazzato e i due si scambiavano occhiate smarrite per via di quell'antipatico malinteso inspiegabile ad entrambi ed ecco che assai inopportuna cominciò a suonare una campanella dalla cappella dei defunti l'artista agitò la mano in aria e il suono tacque per riprendere dopo breve tempo sommesso e poi subito interrompendosi senza alcun cenno particolare sembrava che avesse solo voluto fare una prova K desolato per il disagio in cui vedeva l'artista cominciò a piangere e si ingozzò a lungo coprendosi con le mani il viso l'artista dopo aver atteso che K si calmasse alla fine non vedendo altre via d'uscita si decise a continuare a scrivere e il primo trattino da lui disegnato fu per K come una liberazione ma era evidente che l'artista lo eseguiva con estrema riluttanza la scrittura non era più bella come prima l'oro sembrava insufficiente il tratto appariva sbiadito e malcerto solo cresceva la grandezza della lettera era un yacht ed era già quasi terminato quando l'artista menò un calcio furibondo nel tumulo facendo volare la terra tutto intorno K finalmente capì ma era troppo tardi per pregarlo di smettere affondò le dieci dita nella terra e non oppose quasi alcuna resistenza tutto sembrava quasi predisposto quel sottile velo di terriccio era solo una mostra e al di sotto appariva un gran buco dalle pareti a picco nel quale K sprofondò mentre un blando di succhio lo rovesciava sul dorso ma nello stesso istante in cui protendendo ancora la nuca verso l'alto egli veniva accolto da quell'impenetrabile voragine lassù sopra la lapide tra ornatissimi arabeschi sfrecciava il suo nome estasiato a quella vista si svegliò che si svegliò e poi la nuca verso l'alto che si svegliò il suo nome